Abbiamo equipaggiato un simulatore con un piccolo aeroplanino civile per fare i voli a vista e quindi le prime azioni di volo come fosse un classico aeroplano a scuola. Un altro invece computer attrezzato con software che riguardano i voli commerciali, in particolare un Boeing 737, quindi implica la conoscenza primaria del volo con il Cessna, poi si passa al volo commerciale e quindi alla possibilità di effettuare i voli commerciali come nella realtà, cioè fare il piano di volo, seguire il piano di volo, colloquiare con il controllore di volo e vivere questa esperienza quasi come nella realtà, ovviamente seduti tranquillamente invece che essere a bordo. Questi programmi che abbiamo installato non sono videogiochi, sono già un po' avanti, un po' avanzati come tecnologia, come risposte ai comandi, come precisione e quindi richiedono una certa attenzione sia nell'interesse del passeggero che vuole provare e anche attenzione a tutte le manovre che si fanno, se si vogliono capire e quindi un po' di passione e interesse, ovviamente. Ecco qui in esposizione questo che vedete lo Spad 13 sarebbe l'ultima versione di questo modello, di questo aeroplano che è uscito verso la fine della Primavera Mondiale, è una macchina già avanzata per quel periodo rispetto anche agli aerei nemici austro-ungarici. Un aeroplano affidabilissimo, già la motorizzazione è molto più sicura dei precedenti ed i primi esemplari sono stati dati alle pattuglie più abili e di conseguenza anche la pattuglia di Francesco Baracca. Francesco Baracca è importantissimo soprattutto per la nostra aeronautica, è chiaro per il territorio perché ha combattuto eroicamente sui nostri cieli proprio in queste zone e purtroppo è anche caduto in questa zona, quindi è il pilota per l'autonomia l'asso degli assi, nella vita anche privata di Francesco Baracca che affascina perché lui proviene da una famiglia abbastanza abbiente e quindi appassionatissimo di cavalli, ha partecipato a concorsi hippici anche in Francia prima che nell'inizio della guerra e quindi questa sua passione se l'è sempre trascinata anche sul suo aeroplano che lo considerava il suo cavallo, ecco il motivo dello stemma del cavallino rampante, del cavallino rampante che si chiama il cavallo nella massima sua espressione di forza e di combattività. Quindi questo suo esempio di valore di prestanza, è stato chiesto se era possibile alla madre del pilota di utilizzare il cavallino come simbolo della Ferrari, ecco che allora da quel giorno la Ferrari dota le sue macchine con questo stemma del cavallino rampante, si diversifica dall'originale perché il cavallino della Ferrari se notate ha la coda verso l'alto mentre il cavallino di baracca ha la coda verso il basso. A presto! A presto! .